Buongiorno, vi parlo della tecnica della fotoceramica. È una tecnica innovativa. Mediante un'apparecchiatura digitale modificata, le immagini vengono stampate su una carta speciale sulla quale viene in seguito applicato uno strato di lacca ceramica liquida. Quando la lacca si è asciugata, la figura può essere ritagliata e quindi immersa in una bacinella d'acqua. Passeranno pochi istanti e l'immagine si staccherà dal supporto cartaceo. Sarà quindi pertanto possibile applicarla sulla superficie prescelta, ceramica, porcellana o vetro. A questo punto, l'oggetto, una volta asciugato, sarà inserito in un forno professionale per essere sottoposto ad una procedura di cottura e di raffreddamento per far sì che l'immagine venga totalmente assorbita dallo smalto della superficie. Otterremo in tal modo un prodotto decorato con qualità fotografica digitale garantita dai lavaggi in lavastoviglie e anche dagli agenti atmosferici tipo il sole.